La polizia stradale ha eseguito alcuni controlli su due pullman che dovevano essere utilizzati per delle gite scolastiche, rilevando irregolarità ed elevando le sanzioni previste dalla legge. Nel primo caso gli agenti hanno accertato che un autobus noleggiato da una scuola nissena per una gita scolastica aveva un portellone, utilizzato anche come uscita di sicurezza, non funzionante, creando così un pericolo in caso di emergenza. I poliziotti hanno quindi fermato il bus e la ditta di trasporto interessata ha rimediato, mettendo a disposizione degli alunni un nuovo autobus. La seconda sanzione è stata invece inflitta per la mancanza su un altro pullman, dei martelletti rompivetro e della cassetta di pronto soccorso. La polizia stradale da alcuni anni ha avviato una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, assicurando alle scuole che ne fanno richiesta un servizio di controllo sia prima della partenza che nel corso del viaggio, sui mezzi di trasporto dedicati alle visite di istruzione.